La lesione slap è un distacco del capolungo del bicipite dalla sua ancora bicipitale, ovvero dalla parte più superiore del cercine glenideo. Il termine slap deriva dall'inglese e significa superior labral tear from anterior to posterior e che letteralmente significa una lesione che si estende anteriormente e posteriormente all'ancora bicipitale stessa. Questa lesione si ripara in artroscopia, inizialmente pulendo il margine della lesione con un apposito strumentario e successivamente rimuovendo una piccola quantità di osseo più superficiale in modo da far attecchire al meglio il tendine una volta reinserito dove era sito originariamente e successivamente impiantando, come si vede dal video, un'ancora metallica o di materiale riassorbibile da cui fuoriescono i fili di sutura che vengono poi passati posteriormente ed anteriormente all'inserzione del bicipite. Questi fili di sutura vengono poi legati